Un terzo traforo potrebbe attraversare il Gran Sasso. La proposta, avanzata da Strada dei Parchi, sarebbe contenuta nel verbale di una riunione datata a 21 dicembre 2018 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si direbbe favorevole alla proposta della società di realizzare una nuova galleria dedicata alle opere acquedottistiche. Dal verbale della riunione si evince che Strada dei Parchi S.p.A. avrebbe presentato diverse opzioni di intervento sull'infrastruttura, sostenendo quella che prevede lo scavo di un terzo traforo che secondo rappresentante della società sarebbe l'opzione privilegiata anche dal MIT. Immediata però la contrarietà della regione espressa dal presidente vicario Giovanni Lolli, secondo il quale sarebbe auspicabile la messa in sicurezza delle gallerie già presenti con interventi di impermeabilizzazione delle pareti e dei pavimenti, ammodernamento dei drenaggi e degli scarichi e nuove condotte e potabilizzatori anziché una terza perforazione della montagna. Non si è fatta attendere neppure la reazione del forum H2O che con Augusto De Sanctis ha ricordato la grande mobilitazione di cittadini e istituzioni locali che già 17 anni fa fermò il progetto del terzo traforo sostenuto dall'allora ministro Lunardi. Basta ferire la montagna che dall'acqua agli abruzzesi ha tuonato De Sanctis. Il MIT deve subito chiarire se la posizione è veramente quella rappresentata al tavolo da Strada dei Parchi e nel caso chi sia l'autore di questa improvvida decisione.